Poltronieri secondo corso, studio numero 71, mix di chiavi diverse, tempo 6 ottavi, binario composto, tonalità Si minore, tempo di esecuzione, la segnalina col punto a 50 bpm per semplicità di lettura e di comprensione delle figure ritmiche. Si re fa, re fa la, re fa si, si re fa, si re do si do, sol do si la si, fa si do, re si do la, fa si re, si re fa, si re sol si re so fa. Do si do sol do si la si so si, do mi re si do la si, do re mi fa so fa mi re do, re si do la fa, la si do, si do re, do re mi fa so fa mi re do re si do la fa, la re mi fa mi fa mi si do la, Si Re Do Mi Re Fa La Re Mi Fa Mi Fa Mi Si Do La Do Si Re Do Mi Re Mi Fa Re Mi Do Fa Si Do Re Mi Fa Mi Fa Sol Mi Re Mi Fa Re Do Re Mi Do Si Do Re Si La Si Do La Fa La So Si La Do Si Fa Si Re Fa Sol Si Re Fa si re do si do sol si la si fa si do re si do la si sol si re fa sol fa mi fa re mi do re si do la si